parlamento degli studenti la nuova presidente maria vittoria d'annunzio alcuni giorni fa la seduta di insediamento e saluti del presidente mazzeo vi propongo un patto non siate mai indifferenti premio pianeta galileo a elena cattaneo il presidente del consiglio regionale antonio mazzeo una grande scienziata che ha contribuito al prestigio dell'italia nel mondo si è insediato alcuni giorni fa il parlamento regionale degli studenti della toscana il parlamento ha iniziato la sua attività in coincidenza con la celebrazione della giornata per l'eliminazione della violenza contro le donne e per questo in aula campeggiava un paio di scarpe rosse il simbolo della lotta per i diritti delle donne e contro la violenza di genere posto sopra la bandiera italiana e quella europea ad aprire la seduta con i suoi saluti il presidente del consiglio regionale della toscana antonio mazzeo presente insieme ai consiglieri francesco gazzetti e diego petrucci presidente del parlamento degli studenti della toscana per il 2022 2023 è stata eletta a larga maggioranza con 36 voti maria vittoria d'annunzio proveniente dall'istituto alberti dante di firenze sentiamo le sue parole io sono ancora incredula non riesco ancora a capacitarmi non penso di averlo ancora realizzato sono felicissima soprattutto perché ho visto una vera partecipazione anche nel seminario che abbiamo svolto a montecatini in questi giorni parlando di parole pace e quindi l'importanza della comunicazione in tempo di guerra ecco io penso che la comunicazione sia il sarà il punto in cui più mi mi impegnerò a far rispettare perché la comunicazione è quella che serve non solo per far conoscere il nostro organo ma anche per dare voce a chi in questo particolare periodo storico non ha la possibilità di esprimersi come noi e adesso sentiamo anche il commento da parte del presidente uscente mauro cioci è stata una bellissima esperienza formativa che ha dato tanto e di cui ricorderò tanto e purtroppo lasciare il testimone è parte di questa esperienza ma sono tranquillo a lasciarla una persona che secondo me farà un ottimo lavoro i giovani sono i protagonisti del nostro tempo e vorremmo costruire insieme a loro il futuro un grazie al past president a mauro cioci un grazie a un grande in bocca al lupo a maria vittoria d'annunzio avrà di fronte a sé la necessità di lavorare coinvolgendo tutte le ragazze e tutti i ragazzi toscani il nostro obiettivo è dare voce a chi ha meno voce possiamo costruirlo insieme e credo anzi mi auguro che costruendolo insieme possiamo dare quelle risposte che in questo tempo difficile della pandemia non siamo riusciti a dare una bella sfida una sfida collettiva ponendo sempre un obiettivo di fondo un bimbo che nasce in un piccolo comune della nostra regione nel più piccolo deve avere gli stessi diritti di un bimbo una bimba che nascono a firenze è una grande sfida una sfida possiamo vincere solo tutti insieme per l'alto valore del suo contributo al progresso scientifico e alla diffusione del sapere unitamente alla sua autorevole attività di parlamentare questa la motivazione del conferimento del premio pianeta galileo 2022 alla professoressa e senatrice a vita elena cattaneo a consegnarle il prestigioso riconoscimento alcuni giorni fa nell'aula consigliare del palazzo del pegaso il presidente del consiglio regionale antonio mazzeo e la presidente del parlamento regionale degli studenti maria vittoria d'annunzio è un riconoscimento al grande lavoro di ricerca che la senatrice cattaneo porta avanti ormai da tanti anni ha detto il presidente mazzeo noi ragazzi del parlamento io porto i saluti sia dei parlamentari qui presenti sia di coloro che oggi non sono potuti essere qui siamo veramente grati di avere questa occasione di poter parlare con la senatrice che sicuramente può fungere da insegnamento per noi ragazzi che ancora siamo in fieri no del nostro percorso scolastico e che sicuramente insomma lo vedremo come un una grandissima occasione di consapevolezza riguardo a non soltanto in ambito scientifico ma proprio una strada futura da apprendere è un riconoscimento sicuramente al grande lavoro di ricerca che la senatrice cattaneo porta avanti ormai da tanti tanti anni e che hanno visto l'italia emergere nel mondo ma è anche un premio alle tante donne alle tante ragazze e tanti ragazzi che si impegnano con fatica nel mondo della ricerca quando questa ricerca poi si trasforma in una risposta per migliorare la vita dei cittadini è qualcosa di bello e di enorme il progetto galileo è qualcosa cui io tengo molto perché parla alle ragazze e ragazzi divulga scienza conoscenza permette a ciascuno di loro di poter crescere migliori e penso che questo sia qualcosa di enormemente bello e importante come istituzione consiglio regionale continueremo a portare avanti queste iniziative perché solo dove c'è più scienza dove c'è più conoscenza c'è più libertà la professoressa e senatrice a vita della repubblica elena cattaneo risponde perfettamente a i requisiti del premio ha detto il professore dell'università di siena stefano campi questo premio si inquadra nell'ambito delle attività di pianeta galileo per l'appunto si chiama premio pianeta galileo e vuole essere un riconoscimento ad una personalità del mondo scientifico che oltre alla all'attività che svolge nell'ambito accademico scientifico ricerca e didattica svolge anche ha svolto anche un'attività di diffusione della cultura scientifica e quindi un'attività legata alle diciamo gli aspetti sociali della nostra comunità la professoressa cattaneo professoressa e senatrice a vita della repubblica risponde perfettamente a questi requisiti perché oltre ad un'attività scientifica di grandissimo livello si è sempre prodigata nel nella diffusione della cultura attraverso iniziative rivolte ai giovani e dal 2013 svolge la sua attività di senatrice a vita e anche come parlamentare fa sentire il suo peso scientifico in un ambito diverso da quello da cui proviene contenta soddisfatta di questo riconoscimento la senatrice cattaneo sentiamo le sue parole questo parlamento dei giovani è qualcosa di sorprendente un'iniziativa davvero della quale vorrei conoscere di più l'incontrerò ci parleremo ci conosceremo e spero che continueremo a frequentarci la cosa interessante di essere uno scienziato che non si deve sapere tutto io mi affido alle istituzioni abbiamo istituzioni solide abbiamo avuto comitati solidi che ci hanno fatto uscire da un dramma che l'umanità non aveva mai vissuto prima nella sua storia io continuerei ad affidarmi a queste valutazioni alle loro riflessioni spero che ci sia una maggiore consapevolezza del fatto che la scienza il suo metodo sono la bussola migliore che possiamo avere per essere guidati nei mari in tempesta la scienza altro non è che un metodo appunto per approfondire come stanno e capire come stanno le cose intorno a noi conquista pezzi di conoscenza per tutti noi li mette a disposizione con dati evidenze prove visibili pubbliche verificabili ripetibili sarebbe assurdo con questi bagagli di esperienze di cui disponiamo arrivare a decisioni che prescindono dai dati di fatto delle evidenze quindi spero che sempre più le decisioni legislative siano nelle decisioni legislative possano entrare le prove e le evidenze scientifiche presenti alla premiazione il rettore dell'università di siena roberto di pietra che ha detto questo premio rappresenta un bel momento che riconosce l'importanza delle scienze nella nostra società sentiamolo attribuire questo premio ad una scienziata illustre che rende importante il ruolo della scienza nella nostra società è un momento certamente da celebrare con la massima partecipazione dobbiamo dare spazio al ruolo della scienza non solo nelle università ma nella società e soprattutto in questi ultimi come dire tempi recenti in cui qualcuno mette in discussione il ruolo della scienza con impostazioni che davvero diciamo non rendono giustizia a quanto la scienza ha dato all'evoluzione della nostra società al suo sviluppo e a quello che soprattutto negli ultimi due anni ha consentito di far fronte all'emergenza pandemica del covid grazie alle scienziate agli scienziati per quanto hanno dato e continueranno a dare infine le parole di Ilaria Baroni che ha ricordato come il premio si inserisce nel progetto pianeta galileo voluto dall'ufficio scolastico regionale oltre che dall'università e dalla regione è molto importante molto per noi un onore essere qui perché si inserisce in questo progetto voluto dall'ufficio oltre che dalle università e dalla regione dal 2004 addirittura io sono oggi rappresentanza dell'ufficio scolastico ma vengo dalla scuola dalla secondaria di secondo grado cioè dall'ordine di scuola che ha potuto insomma godere di questo progetto e trovo che il premio alla senatrice per il ruolo anche non so evidentemente di scienziata di livello elevatissimo ma anche di donna che ha divulgato la scienza questo trovo che sia molto importante per il suo ruolo di mediazione anche presso i ragazzi i ragazzi